ciao prima di iniziare metti un mi piace e premi il tasto iscriviti mazzoli ammette la sconfitta una lettera dal vincitore dell'isola dei famosi vincitore della diciassettesima edizione dell'isola dei famosi marco mazzoli ha condiviso i suoi pensieri e sentimenti sulla sua esperienza televisiva attraverso una lunga lettera pubblicata sul suo profilo instagram durante il reality show condotto da aloe blozzi abbiamo avuto modo di vedere mazzoli rafforzare la sua amicizia con il collega di lo zoo di 105 paolo noise e allo stesso tempo mostrare un carattere forte che lo ha spesso portato al centro della scena nonostante ciò ha sempre portato un tocco di leggerezza che ha conquistato il cuore degli spettatori nel suo post marco mazzoli esprime la sua gratitudine nei confronti dell'isola dei famosi e condivide le sue emozioni contrastanti durante il suo percorso nel reality inizialmente convinto di poter distruggere smascherare e modificare l'isola dato che non era un fan dei reality show e aveva una posizione di condottiero nello spettacolo radiofonico lo zoo di 105 mazzoli si è trovato invece completamente sconvolto dall'esperienza ha perso le sue certezze le sue abitudini gli amori e gli amici e ha subito una perdita di libertà e dignità nella lettera ammette di aver provato odio e di aver combattuto contro l'isola per diverse settimane ma alla fine ha dovuto cedere al suo volere per sopravvivere è stato solo a partire dalla quinta settimana che si è permesso di mettere in pausa il personaggio mazzoli dello zoo di 105 e dimostrare la sua vera essenza come marco da quel momento le cose sono radicalmente cambiate mazzoli riconosce che l'isola dei famosi lo ha fatto soffrire ma allo stesso tempo gli ha regalato momenti di gioia e risate è stato costretto a vivere con il minimo indispensabile a sperimentare la fame e ad affrontare giochi complessi nonostante le sue forze fossero deboli nonostante tutto marco mazzoli ringrazia l'isola per averlo reso più forte e per aver ribaltato la sua lista di priorità nella vita ammette che non ripeterebbe mai più questa avventura ma che porterà sempre con sé gli insegnamenti che ha ricevuto alla fine mazzoli si rassegna all'ammissione che non è stato lui a vincere ma l'isola stessa grazie grazie